La negazione dei diritti arriva anche all'aver stroncato sul nascere dei diritti che erano i diritti del futuro, perché siamo stati molto contenti che per 300 anni qualcuno abbia lottato per cominciare a stabilire dei diritti, ma non è che è finita lì, si può continuare a stabilire dei nuovi diritti. Per esempio il diritto a non lavorare sempre, il diritto a dire io sono su questo pianeta, che hai fatto così, è un bene comune, è anche mio, chi l'ha detto che io devo passare tutta la mia vita in un ufficio? Chi l'ha detto? Che io non devo avere nel momento dell'energia, dell'abilità mentale, della possibilità fisica, il diritto di goderne di questo posto? No, abbiamo tutti accettato che nasciamo, viviamo, ci ammaliamo e moriamo e probabilmente se siamo fortunati abbiamo visto e goduto e sperimentato una frazione infinitesimale di questo bene comune. Naturalmente, sempre secondo la teoria dei VIP, altri hanno il diritto invece di goderne pienamente, non si capisce perché. Tutti noi dobbiamo lavorare sempre, ma perché? E questo poi fa l'altro a scapito dei rapporti familiari, figli eccetera eccetera. E ci sono tanti altri diritti, voglio dire, i beni comuni, il diritto alla casa, adesso me ne stavo dimenticando perché poi sono proiettato su cose, ma insomma voglio dire, anche lì è accettato, ormai si deve fare un mutuo, cosa paghi? 600-700 euro al mese? Quanto deve durare? 30 anni, 40 anni, che casa compri? Ma se riesci a tirarti su quei 60 metri quadri sei fortunato. Ma stiamo scherzando. Io devo legare tutti i miei piedi e dei ceppi per tutta la vita per avere che cosa? Una casa. Ma è il mio diritto, è il bene comune fondamentale. E abbiamo accettato anche questo. Allora, così come noi oggi stiamo tutti in buona fede discutendo, quanto vadano ridotti i diritti e non più dei diritti, così è anche la politica. Un intellettuale americano scrisse un libro, da alcuni anni fa, che si chiamava La fine della storia. Questo si chiama Francis Fukuyama. Lui diceva che la storia era finita perché era corrolato l'impero sovietico e naturalmente l'unico sistema politico possibile era quello occidental democratico e naturalmente da questo libero mercato. Da questo ne derivava secondo lui la fine della storia. Ha sbagliato tutto secondo me, perché questo non è fra l'altro neanche poi successo del tutto. Ma io ribattezzo questa teoria, la vera fine della storia, perché arriviamo al comportamento della politica su questo, su questa premessa che sto facendo. Cioè oggi la politica che ci vorrebbe rappresentare sta facendo esattamente quello che facciamo anche noi. Cioè oggi la politica si occupa dell'abolizione dei diritti e del grado di abolizione dei diritti. Cioè oggi abbiamo una politica di destra, un'altra politica di destra e un'altra politica di destra. La terza politica di destra si chiama sinistra. Non se ne è accorta, ma è di destra. E discute temi di destra. Cioè quanto vadano aboliti i diritti dei cittadini, quanto vada ristretto il governo, quanta deregulation ci vuole, quanta atomizzazione della vita di ogni singolo cittadino è concedibile. Quello che è successo è la fine della politica, non la fine della storia. La fine della politica laddove i partiti che si opponevano lungo lo schieramento sono tutti raggruppati da una parte. Cioè quelli di destra sono rimasti fermi al palo e tutti quelli che stavano alla sinistra e alla destra hanno fatto così. Sono tutti andati a destra, in tutti i paesi occidentali questo. In Inghilterra poi non ne parliamo. Una cosa spaventosa il fenomeno inglese. Allora, capite, ed è la fine della politica. Di nuovo nessuno se ne sta rendendo conto, cioè ancora siamo convinti e discutiamo e facciamo i dibattiti, apriamo Repubblica la mattina e si discute del Partito Democratico, l'Ulivo, questo e quell'altro, ma di che si discute. Io non leggo più i giornali e non guardo più i telegiornali. Perché io di questa roba non voglio più sentire parlare. Allora, adesso qui potrei andare avanti molto tempo. Perché ho fatto questa premessa che è così grave? Perché se non faccio questa premessa non si capisce poi quello che vado a dire del libro. Cioè, non si capisce poi quando uno, come Paolo Barnard, scrive un libro che vi dice, guardate, che nel terrorismo il re è nudo. Da un re nudo, una volta che è passata l'idea che un re nudo vada visto vestito, e ci siamo tutti convinti che è vestito, da quel punto in poi, dieci, quindici, venti, trenta, mille, cinque mila re nudi. E li vediamo tutti vestiti, cioè ci dicono, esiste il terrorismo che ci minaccia tutti. Adesso, in Italia, il tema è passato leggermente in secondo piano, perché noi italiani siamo fatti così. Naturalmente, se non c'è una bomba da qualche parte, se non c'è una bomba a New York, piuttosto che a Londra, piuttosto che a Roma, non ce ne interessiamo più. Sta per scoppiare la terza fase bellica per l'umanità, che sarà quella finale, cioè la guerra atomica. Però, a noi, la storia del terrorismo non ci interessa quasi più, ormai i giornali ne parlano in maniera molto di secondo piano. Ma, in realtà, ecco che ci raccontano che c'è questo terrorismo. E nel nome di questo terrorismo e della lotta al terrorismo vanno fatte tutta una serie di cose. Naturalmente, anche qui, così come si dà per scontato che non devono più esistere i diritti fondamentali, e che si devono discutere solo di quanto abolirli più o meno, così si dà per scontato che esiste un terrorismo, che è quello islamico, di Al-Qaeda. E si dà per scontato che tutti comprendano che c'è chi lotta contro il terrorismo. Quando il re è nudo, esiste un terrorismo, che è il nostro, quello occidentale, prove alla mano, ed esiste una reazione, violenta, sanguinaria, omicida e criminale, ripeto, violenta, sanguinaria, omicida e criminale, perché non mi si accusi di giustificare chi fa esplodere un grattacielo piuttosto che chi mettono bombe in una discoteca, ma esiste un terrorismo in nostro, grande terrorismo, ed esiste una reazione. E se non si capisce questo, è meglio alzarsi da questa sala e uscire, perché non si capisce niente, non si capirà niente di quello che sta veramente succedendo nel mondo. Allora, a noi raccontano invece che la reazione è il terrorismo, naturalmente si ribaltano i tavoli. Così fece Reagan, per esempio, giusto per darvi una... ma lo sapete, così faceva Reagan negli anni, negli anni del suo, nei suoi quasi dieci anni di dominio, negli Stati Uniti dell'America, negli anni Ottanta, dove convinceva gli americani che quello che stava succedendo nell'America Latina era terrorismo, quando in realtà era una reazione disperata, esasperata, a decenni di politiche neonaziste nei confronti di popolazioni inermi, che poi nel momento in cui si ribellavano e formavano qualche gruppo armato, con l'acqua alla gola, ecco che venivano chiamati terroristi. Il ribattamento era questo. Reagan riuscì a convincere gli americani che Managua era più vicina a Harlingen in Texas piuttosto di quanto fosse Washington a Managua. Cioè, i nicaragüensi ci stanno per invadere. Gradirei qualche sorrisino, perché, voglio dire, questo riuscì a fare Ronald Reagan, a convincere, ma sul serio, questo è un fatto storico, lo riporto nel libro, riuscì a convincere gli americani di questo, per dirvi quanto si ribaltano i tavoli. Allora, venendo al discorso del terrorismo oggi, ci raccontano che c'è questo terrorismo e dunque, naturalmente, ci devono raccontare anche perché c'è, perché ci sono questi terroristi, ci dicono che questi sono degli islamofascisti, degli oscurantisti, ci raccontano tutta la loro storia e ci dicono che naturalmente ci odiano, perché? Per nessun'altra ragione, se non il fatto che noi siamo liberi, siamo democratici, le nostre donne hanno la minigonna e portano i capelli sciolti, abbiamo i talk show televisivi con le donine nude, tutte queste cose, e ci odiano perché siamo questi popoli così liberi, libertari e democratici, naturalmente loro negano tutto questo e ci vogliono distruggere. Questo è tutto falso.